Sicilia, beati i pensionati della regione. Perché questo titolo? Molto semplice. Qualche giorno fa il Consiglio di Presidenza, con una delibera, ha tagliato le pensioni d'oro degli ex burocrati dell'ARS, ma quelle dell'ARS non sono le uniche pensioni d'oro in Sicilia. Pensate che, dice l'Istat, gli ex dipendenti della regione percepiscono mediamente 37.523 euro contro i 15.887 dei comuni mortali, quindi del resto dei pensionati siciliani. Un gap insopportabile e che testimonia come la Sicilia autonoma abbia prodotto figli e figliastri. Domani sul Quotidiano di Sicilia, Patrizia Penna.